Bene, a grande richiesta vedremo come fare una sandbox Per fare una sandbox in Edmondo, come in OpenSim o in Second Life occorre però avere un po' le idee chiare su alcune cose In particolare, diciamo, le due concette importanti sono i concetti di terra nel senso che una sandbox è associata a un pezzo di terra e le terre sono praticamente delle parcelle vedete che qua in alto su Imprudence io sono su una parcella che si chiama Multimedia ed è collocata nella Welcome Area non si vedono benissimo le parcelle che sono specie di appezzamenti di terreno però se io clicco per terra e faccio Edita il terreno vedete che mi fa vedere, insomma, questa è una parcella con i tuoi suoi confini e una cosa simile la posso ottenere anche andando qua cioè andando, se io mi sposto in una zona vedete queste in realtà sono ben tre parcelle cioè se io prendo questi oggetti qua e poi seleziono, vedete qui c'è About Land e questa è una parcellina piccola ora questa parcellina qua può essere editata con tutte le funzioni della terra però per poterla fare io devo essere il proprietario di questa terra quindi supponiamo ad esempio di guardare un po' come è fatta questa terra facciamo Edita il terreno, questo qua e vedete che qui abbiamo informazione sul terreno quindi vediamo sicuramente di chi è posseduta in questo caso vedete che è posseduta da un gruppo e il gruppo è Welcome Area Welcome Area è un gruppo che possiede alcune terre che mi sono fatto creare da Andrea Benassi per poter fare queste dimostrazioni quindi voi avrete probabilmente una sim con delle parcelle dove sicuramente siete proprietari potete essere proprietari singolarmente oppure in gruppo è più comodo alla fine avere il possesso del gruppo in modo tale da poter condividere con altre persone è più facile dal punto di vista della praticità se le cose sono possedute da una sola persona questo perché quando è posseduta da una persona poi per passarla al gruppo bisogna poi impostarla nel senso che bisogna prima assegnarla al gruppo e poi bisogna cederla al gruppo, la terra quindi con tutte le funzioni che si fanno qua ma poi la parcella deve essere anche creata perché se voi avete una sim intera la sim sarà un'unica parcellona immaginiamo che questa sia la nostra sim intera giusto per fare un esempio supponiamo di voler suddividerla in alcuni appezzamenti come si fa? si va a suddividere quindi da questa finestra come avete visto sono dato tasto destro edito il terreno e clicco su suddividi ah ok bisogna prima selezionare una porzione di questo terreno e come faccio a selezionare? basta che io vado col tasto sinistro e poi trascinando il mouse vedete che mi definisce delle parcelline il minimo che si può fare da quello che sembra è una parcella fatta così c'è una parcella credo che sia 16 metri quadrati quindi se io dico adesso suddividi allora dividendo il terreno ecco che è nata una nuova parcella questa questa parcella qua avrà le sue caratteristiche quindi questa la chiamo parcellina ecco in questa parcellina potrò mettere delle cose particolari e le cose particolari che ci interessano sono associate praticamente alle caratteristiche degli oggetti che ci possono essere quindi la primissima cosa da fare è controllare quindi clicco qua in cima se io do la possibilità a tutti o meno innanzitutto questa parcella vedete che è ancora di proprietà del gruppo ora supponiamo che sia in grado di poterla vendere cioè se non va bene il proprietario attuale e c'è sufficienti diritti posso provare a vendere questa terra a zero e la vendo a un utente che sono io no quindi vicino a me no facciamo qua troviamo un utente eccolo selezioniamo lo vendiamo a a lui e gli diciamo va bene di non vendere mettiamo la terra in vendita 16 metri quadrati e a questo punto l'avatar che in questo caso sono io potrebbe in principio un altro può andare su edita il terreno e dire ah bene questo terreno è in vendita quindi me la prendo io quindi me la prendo io viene venduto viene comprato e ora se io vado a vedere le informazioni del tra l'altro qui mi fa vedere tutti i proprietari informazioni sul terreno si dovrebbe vedere in teoria il proprietario eh però qui a questo punto forse si è un po' perso la cosa avrei dovuto comparire io comunque era solo per farvi vedere il giro della vendita questo può succedere a volte quando voi siete proprietari dovete vendere il gruppo quindi about land ah no proprietario se l'ha preso Claudio Pachiega e il gruppo è il gualcomare ma il proprietario è personale questa è una cosa abbastanza interessante perché così vi faccio vedere un po' di cose quindi farò poi vedere anche come fare il cedere al gruppo allora qui diciamo che su questa terra io posso decidere se se lasciare innanzitutto modificare il terreno no se lasciare tutte queste cose qua ma soprattutto se le persone possono creare tutti diversi da me qualcosa se io tolgo tutto tutti i diritti a questo punto se io creo un oggettino in questo pezzamento io lo creo e va bene ma supponiamo che ci sia un'altra persona vediamo un po' se riusciamo a entrare in due imprudence no perché imprudence non tollera questa cosa ma adesso tra un po' vi farò vedere invece entrerò con un altro avatar ok eccoci qua con un altro avatar vedete che sono entrato con con il bruchino e ora sono nel del pezzettino che abbiamo visto che è di proprietà della parcellina tra l'altro notate che se io mi muovo ed esco della parcellina vedete che è cambiato il testo quindi qui sono in un altro pezzo di terreno e di là sono nella parcellina un altro modo per vedere queste cose ci sono le possibilità di vedere dalla show owned land show ecco property lines ctrl alt shift p ecco ctrl alt shift p vedete che mi fa vedere le parcelle quindi so che entrando qua entro in questa parcellina ok allora qui supponiamo io che non sono il proprietario faccio creo qualcosa allora qui ho creato un oggetto però supponiamo che in realtà il proprietario di questa di questa parcella non voglia che io lo faccia quindi cosa fa vado qua edita il terreno proprietà della terreno dico che qui in teoria avrei detto che nessuno può entrare può costruire diciamo non può creare oggetti quindi in teoria qui c'è stata una piccola malfunzionamento non avrebbe dovuto farmi costruire questo questo oggetto questo è un piccolo malfunzionamento però l'idea sarebbe stata quella però vediamola un po' dal punto di vista invece della 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 sandbox quindi noi quindi da questa terra vogliamo impostarla come sandbox per farlo dobbiamo andare nelle caratteristiche degli oggetti qua e qui gli diciamo che deve restituire dopo un minuto gli oggetti degli altri cioè quelli che non sono del gruppo quindi a questo punto io mi aspetterei che entrando costruendo un oggetto un oggetto qua ok quindi costruisco questo oggettino qua fatto così faccio un po' di disastro questo oggetto in quanto non è non è del proprietario vedete che è la terra di priorità di Claudio l'oggetto l'oggetto che sto facendo invece è tutto mio e non è neanche del gruppo quindi io mi aspetterei che entro un minuto visto che ho messo che c'è l'auto return in un minuto dunque l'auto return qua un minuto dovrebbe andare via quindi owned by parcel owner sono queste eccetera ecco ed ecco che in effetti il mio oggetto è sparito dopo circa un minuto e mi è arrivata questo meccanismo questa segnalazione quindi adesso non so se questo si è capitato perché c'è anche l'effetto sandbox proviamo a fare la prova cioè togliamo dalla dalla caratteristica del terreno il fatto che è una sandbox quindi mettiamo zero quindi a questo punto questo ci dice che non è più una sandbox e poi nelle opzioni ci accertiamo appunto che nessuno possa inserire a questo punto in teoria se noi andiamo a creare qualcosa qua eh no ce l'ha ancora fatto creare eh niente questo è molto molto brutto quindi diciamo che se volete che la gente non costruisca a questo punto diciamo che la la cosa migliore è proprio quella di metterlo in termini sandbox ora però qual è il problema è che se supponiamo che io sia nello stesso gruppo di Claudio e voglio che solo quelli del gruppo possano costruire qua dentro questa parcellina come faccio a farlo? occorre che la parcellina sia data al gruppo quindi quello che accade è che il dove andiamo dove sono qua vuol dire che io questa parcella edita la devo cedere al gruppo quindi devo in qualche modo ecco cedere al gruppo quindi prima devo impostare un gruppo che è quello per esempio della welcome area piuttosto che della vostra scuola dopo di che una volta fatto questo devo cedere tutta la parcella al gruppo e questo viene fatto attraverso il cedi facendo il cedi questa parcella qua diventa di proprietà della dead di welcome area a questo punto tutti gli oggetti visto che è stata messa l'opzione aspetta controlliamo no non era mettiamo l'opzione un minuto quindi a questo punto tutti quelli che tutti gli oggetti che non sono del gruppo quindi per esempio questo qui è mio ma non è del gruppo ah no è ancora del gruppo quindi facciamo togliamolo dal gruppo ecco non appena l'ho tolto dal gruppo vedete che è sparito quindi se io creo qualcosa che però non è nel gruppo questo qualche cosa questo oggetto nel giro dei tempi previsti dovrebbe sparire infatti proviamo ancora a controllare quindi è mio di Claudio ma non è impostato al gruppo quindi riveste a quel problema vado anche visto che ci sono di qua e faccio lo stesso mestiere qua creo un oggetto e non ha nessun gruppo ok quindi mi aspetterei che tutti e due gli oggetti dopo un certo intervallo di tempo infatti vedete qui c'è l'elenco delle cose di proprietà del gruppo del parcel own e di quelle di non proprietà del gruppo quindi torniamo con un po' di pazienza qua e vediamo se ecco vedete qui è posseduto da altri oltretutto io posso anche qua dire mostrami tutti gli oggetti che non sono di proprietà del gruppo ah vedi il mio oggetto qua è sparito non c'è neanche più ma tra qualche secondo dovrebbe sparire anche l'altro oggetto che non era di proprietà del gruppo infatti vedete dice due to parcel auto return questo qui è ancora un oggetto lì di salazar e questo oggetto anche lui tra un po' dovrebbe andarsene in teoria cioè praticamente a tendere nella terra non dovrebbero più esserci degli oggetti che non siano stati dati al gruppo quindi chi costruisce qualcosa di persistente deve darlo al gruppo infatti vedete che è sparito questa cosa qua quindi io cerco il gruppo se io prendo il mio profilo nel mio profilo vado a vedere i gruppi a cui partengo vedete che ci sono il gruppo welcome area quindi essendo il gruppo welcome area posso creare degli oggetti a nome del gruppo quindi cosa faccio il gruppo che qui è fatto così l'ho imposto welcome area a questo punto la stessa cosa la può fare anche Claudio quindi che va nella sua cosa si crea un oggettino e vedete che quando lo crea lo dà già al gruppo perché è il default con cui vengono creati si può fare una specie di default quindi posso definire che entri in quel gruppo ora quello che succederà adesso è che i due oggetti essendo dati al gruppo potranno persistere quindi rimarranno per più di un minuto non so cosa altro dire quindi questa è la è la definizione diciamo di sandbox quindi per poter fare una sandbox bisogna averle decchiare su come si suddividono le terre si potrebbe dire qualcosina sui gruppi in particolare i gruppi non sono difficili da fare per creare un gruppo basta andare sui gruppi e qui si può creare un gruppo ex novo quando si crea un gruppo ex novo si dice ad esempio facciamo un gruppo facciamo gruppo testo no? sala zar ok? allora a questo punto dico che l'iscrizione è libera che non costa niente posso scrivere lo statuto del gruppo insomma mettere un'immagine del gruppo può essere anche un'idea interessante mettiamo mettiamo quindi praticamente statuto del gruppo sala zar ecco questa è una cosa interessante a questo punto contenuto maturo diciamo di no questi sono i messaggi che vengono da second life non importano e una volta che ho fatto diciamo il mio gruppo posso anche invitare altri membri quindi posso invitare residenti vicino a me salza seleziona e gli dico dunque mando l'invito quindi a questo punto nel gruppo se andate a vedere nei membri di questo gruppo ci sono adesso qui non lo fa vedere perché bisogna fare aggiorna e magari anche uscire e rientrare però credeteci che ci sono ci sono due membri ah no perché l'altra persona deve accettare per entrare nel gruppo infatti qua c'è scritto Claudio mi ha invitato accetto l'invito e a questo punto effettivamente se io vado di nuovo a vedere il gruppo quindi vado nei miei gruppi gruppo test serrazzarra andiamo informazioni del gruppo membri del gruppo ruoli aggiorna e qui non è ancora aggiornato quindi probabilmente c'è bisogno di uscire e rientrare insomma aspettare qualcosina questi sono difetti di second life però io dovrei già essere del gruppo quindi qua cosa succede che questa terra qua dovrebbe essere data al gruppo allora facciamo di nuovo il giro di prima non tanto per farvi vedere un po' come funziona allora la terra abbiamo detto che è questa che si chiamava parcellina la cediamo e la cediamo magari a un avatar e l'avatar la cediamo per esempio in questo caso a salzer mettiamo la terra in vendita andiamo come salazar e proviamo a vedere se ecco vedete qui posso comprare la terra la compro quindi questa terra qua comprata a questo punto diventa di proprietà di salazar quindi io come salazar posso definire che qui tutte le cose che sono ma prima fare il contrario anche che non entra nessuno e che c'è un autoretum di un minuto ok quindi a questo punto in linea teorica questo qui è mio e infatti vedete che rimane quindi ho rovesciato i ruoli se per caso Claudio entra in questa terra e crea ah ecco qui vedete che adesso funziona un po' meglio ah probabilmente prima mi lasciava creare gli oggetti perché io ero comunque owner di questo terreno adesso invece è una situazione forse un pochino più definita in cui ho detto che questo terreno ci può costruire soltanto nessuno può costruire nessuno può fare entrare gli oggetti e anche l'ingresso degli oggetti è interessante perché io potrei avere degli oggetti legittimi qua vedete che qui non sono in quella terra quindi Claudio ha fatto un oggetto in un posto legittimo poi potrebbe per dire spostarli per metterli dentro e quello sarebbe il significato del fare entrare gli oggetti vedete che me li rigetta quindi non posso fare entrare oggetti che non siano oggetti diciamo miei però potrei su questa terra fare facciamo in quanto salza vedete che tra l'altro adesso visualizzando con ctrl alt shift p la terra di mia proprietà l'ha fatta diventare verde potrei però dire che su questa terra possono entrare e fare tutto le persone del gruppo quindi qui posso dire non che costruiscono tutti ma che soltanto le persone del gruppo sono abilitate ma il gruppo qual è? il gruppo adesso non c'è nessun gruppo è imposto un gruppo che è il gruppo test salazzaro quindi adesso tutte le persone del gruppo salazzaro possono creare e inserire elementi quindi quello che vabbè qui c'era un dato via perché c'era l'autoretum però se claudio a questo punto fa un oggetto e però ha cura di mettere questo oggetto il gruppo test salazzaro a questo punto se lo cerca di mettere qui dentro vedete che me l'ha fatto mettere perché in realtà la terra è diventata del gruppo quindi la terra del gruppo lo può gestire solo il gruppo e in più posso mettere quella famosa cosa che dicevo edita il terreno informazioni sul terreno e abbiamo detto che affinché sia una sandbox deve esserci l'uno l'autoretum quindi a questo punto claudio se crea un oggetto intestato a lui e che magari è anche su un gruppo ma non su quello ufficiale quindi ad esempio è sulla web comarea in teoria questo elemento è un intruso e questo lo vedo perché anche da qua vedete che ci sono del proprietario del gruppo che sarebbe salazzaro uno e così via quindi vedete che abbiamo fatto tutto il giro quindi il giro che abbiamo visto dunque vediamo un po' qua quindi questo è di proprietà mia l'ultimo elemento che abbiamo visto prima quindi ve lo faccio rivedere è possibile no qui è stato impostato il gruppo ecco si può fare ah non posso fare il did del gruppo perché qui ci sono proprietà particolari eventualmente queste le vediamo insieme comunque credo spero che abbiate visto un po' di giri di proprietà di oggetti di valori minuti eccetera per potervi fare anche voi qualora abbiate proprietà di un pezzettino di terreno su su craft oppure su su qua per poterci lavorare sopra ecco per oggi è tutto vi ringrazio grazie a tutti